Grazie Giuseppe, diamo la parola a Maddalena Gissi, segretaria generale della CISL Scuola. Nel frattempo ricordiamo che alle 16 si riunisce la Commissione Emozioni e sollecitano, qualora qualcuno non l'avesse ancora fatto, la verifica poteri. Quindi siete invitati, coloro che non l'hanno ancora fatto, a effettuarlo il prima possibile. Io credo che le parole utilizzate dall'Anna Maria in una relazione articolata, molto importante, ma essenzialmente una relazione che deve fornire a questo congresso le linee programmatiche per i prossimi anni. Le parole, dicevo che Anna Maria ha utilizzato, devono essere da tutti noi analizzate. Sono parole importanti che nascono però da una dimensione, è una dimensione di contesto, è una dimensione non pragmatica, ma essenzialmente una dimensione respirata in tutti i congressi. Il suo esordio nella relazione è stato, parliamo di una festa, parliamo di un concerto, parliamo di un cammino e narriamo, narriamo quello che è avvenuto in tutti i congressi, narriamo quello che è stato il momento d'ascolto. Nella sua relazione Anna Maria ha descritto alcuni dei aspetti che io non ho bisogno di collocare come scuola. Sento miei, perché sento mio completamente come categoria, il percorso affrontato dalla Confederazione, i temi affrontati in questa relazione, senza la necessità di distinguere, citare categorie di diverso genere, con le singole peculiarità e specificità. Non c'è bisogno di distinguere, anzi, deve emergere come in un contesto generale, in una scelta confederale, tutte le categorie sono protagoniste. Protagoniste perché c'è sinergia, ci sono valori comuni, c'è attenzione. Attenzione per quali temi? Quando Anna Maria ha parlato di una contrattazione come esplicita condizione e limite dell'intervento legislativo, ho fatto un sobbalzo, ho lanciato uno sguardo alla Ministra Fedeli, che devo ringraziare per la sua sensibilità, e ho compreso che era ancora una volta un segnale di equilibrio tra norma e contratto, una nostra lotta rivendicativa, che non ha bisogno di essere chiamata scuola che rivendica, ha bisogno di essere chiamata valore della contrattazione, capace di mettere, in qualche modo, anche rimedio a tutte le norme. Il Presidente Gentiloni è stato molto raffinato, ha fatto un esame delle riforme e ha evitato la buona scuola, sapeva benissimo che non poteva essere un fiore all'occhiello. Però in questo suo percorso abbiamo anche apprezzato la volontà di mettere rimedio a tanti buchi, a tanti vuoti, per tutto il pubblico impiego, per il nostro settore nello specifico. Mi viene in mente che non possiamo aspettare, questo lo dico a Gigi che è qui che vedo che prende appunti, però lo diciamo poi magari insieme ad Anna Maria, non possiamo aspettare il decreto vaccini per inserire i posti in organico per le quattro aree del terremoto, i posti per quei docenti che sono l'unica garanzia, l'unica garanzia per evitare la desertificazione di una comunità che se non ha la scuola non ha la possibilità di raccogliere quei ragazzi, quei giovani pronti ad evadere. È bellissima l'espressione, la stagione dei tempi opportuni, è splendida. È splendida perché si riconduce ad un discorso un po' più ampio, quello che Anna Maria ha affrontato parlando di giovani. Non solo parlando di giovani, come in qualche altra occasione abbiamo anche fatto noi come categoria, facendo parlare i giovani è molto importante. Teniamo dentro quelle testimonianze, la testimonianza di quel ragazzo che ora non vedo, che provava un profondo dispiacere perché era stato assente a scuola. Immaginate quanto è difficile trovare una forza così interiore di interesse per la scuola in un momento di grave crisi. Perché c'è questa crisi? Perché c'è la crisi della scuola? Perché c'è questa crisi educativa? Perché mancano le alleanze. E dove dobbiamo fare queste alleanze? Con chi dobbiamo creare queste condizioni di alleanza? Ce lo dice il Papa? Abbiamo bisogno che ce lo dica il Papa? No, però il Papa ci dà forza. Ci dice il Papa, siate sentinelle, perché nelle periferie esistenziali si vive il disagio. Ce lo dice in modo egreccio il Vescovo di Taranto, che ricorda cosa significa lavorare con i giovani in aree dove il lavoro manca e se c'è fa anche male alla salute. E allora se dobbiamo pensare alla crisi educativa, noi dobbiamo pensare a come questa crisi deve individuare le nuove alleanze tra famiglia, società e scuola. La scuola non è un'entità astratta. La scuola è fatta di un milione di persone, milione di persone che spesso si vedono depauperate del ruolo, spesso sono fautori e fautrici del loro stesso depauperamento. non hanno una forza probabilmente di sostegno esterna. Dobbiamo costruire anche una condizione che dia loro un'identità. C'è una disaffezione profonda, ma perché c'è un'insicurezza? Un'insicurezza nei confronti del lavoro, diceva Anna Maria, la sfiducia per un lavoro che non si sa quale potrebbe essere. Ma oggi vi dico, una categoria che vive una profonda sfiducia per un lavoro che non è più sicuro, ma non per un fattore solo economico e di stabilità, ma di incertezza in termini proprio di riconoscimento sociale. Confondere il lavoro estivo, l'insegnamento estivo, con il lavoro scolastico, è sbagliato. Pensare di fare interventi estivi quasi fossero interventi cattedratici è sbagliato perché non c'è questa possibilità e non possiamo farcela sfuggire. Perché c'è bisogno in un'emergenza educativa di agenzie educative che guardino alla dispersione. E allora oggi, con grande gioia per me, ho sentito tante volte citare da Prodi scuola, scuola, scuola. Abbiamo bisogno di un traghetto per quelle caravelle. Come? Come con la nuova... Come fare, come tradurre la voce innovazione? Nella relazione di Anna Maria si parla di innovazione, ma ne ha parlato di innovazione in modo splendido il Papa Francesco. Noi non dobbiamo avere paura. Le nostre strutture come categoria sono sul territorio, Anna Maria lo sa. Sono state in questi giorni, hanno incontrato centinaia di migliaia di ragazzi. Sono state lì e non hanno risparmiato il loro tempo. Sono state non solo sentinelle, sono state in qualche modo anche oggetto di tanto bisogno di ascolto. I giovani che non hanno lavoro pensano ancora alla scuola come un'opportunità, pensano ancora alla scuola come una chimera occupazionale. Questo Paese però deve capire che se la scuola serve, la scuola non può avere investimenti non programmati. Noi abbiamo, Anna Maria, bisogno di dare seguito a quello che tu hai detto, quel patto solidale. C'è un problema demografico, c'è una denatalità profonda, c'è una mobilità che la scuola dovrà affrontare perché non ci sono allunni al sud e ci sono allunni al nord. Ci sono gli immigrati che hanno bisogno non dell'intervento 1 a 28 e tutti 30, dove una classe è composta da molte provenienze, più provenienze, e dove il docente deve conoscere anche le caratteristiche culturali dei paesi dai quali provengono questi ragazzi. L'esperienza di Eraldo Affinati con la Penny Whirton è un rapporto 1 a 1, ma quella è un'esperienza eccezionale, l'abbiamo esaltata, ma è un'esperienza importante. Allora, se Minniti è vero, sta ponendo attenzione a questi problemi con l'Europa, qual è il contesto che accoglierà per istruire linguisticamente questi ragazzi? Come si potrà sopperire? Ci sono bei progetti che in qualche realtà d'Italia ha fatto l'anteas per insegnare ai ragazzi la lingua, pregevoli progetti, la nostra CISL fa pregevoli progetti, mettiamo in rete le buone prassi e capacità di collegamento. E chiudo, chiudo perché è giusto che si dia spazio agli altri interventi con una considerazione. il Papa ci ha invitato a recuperare un nostro essere. Io vi dico che l'invito del Papa trova una radice profonda già in noi. Il Papa ci ha raccontato, ci ha voluto dire che viene eletto il sindacato con una chiave di lettura distorta a volte di pochi soggetti, non sicuramente della grande capacità del sindacato di essere accanto alle persone che hanno bisogno. Io vi invito e invito anche a dare continuità a quel messaggio che Anna Maria al nostro congresso ha lanciato. Anna Maria ha pubblicamente dichiarato non c'è CISL scuola senza CISL. Non c'è CISL senza CISL scuola. Bene. Grande alleanza. Siate esigenti con la scuola. Pretendete da noi scuola di più. Mamate la scuola e sostenetela perché nella scuola c'è il futuro di questo Paese. Grazie. Grazie Elena. La parola...